...e quel periodo negativo in campionato... Eh, va, negatissero pensare bene con il pergine... Ah! Purtroppo, ripeto, quando si entra in quelle situazioni crisi che non è fai... Ah, Domenico! ...e quattro giorni... Dove fai a dire? Ma pari a cattura se c'è un paio di te... ...e... ...di, di, di... ...di, di, di... ...di, di, di... ...di, di, di... ...di, di, di, di... ...di, di, di, di... ...di, di, di... ...di, di, di, di... ...di, di, di, di... ...di, di, di, di... ...gnumwali... ...comunque dico... recuperare i giocatori è stato fondamentale è un'attività è un'attività è un'attività è un'attività